Bisogna andare Allora Daniela, eccoci, parliamo Allora siamo a Pavia, sono qua con Daniela Bonanni, ciao Ciao Siamo a Pavia, all'ingresso di Strada Nuova, al Ponte Coperto, dove sta accadendo una cosa un po' strana No, una cosa incredibile nel 2016, che per far manifestare dei fascisti che si dichiarano tali che non lo nascondono assolutamente Fascisti e nazisti, il centro storico di Pavia è bloccato e questi possono fare il corteo nelle vie centrali di Pavia in modo impunito, questo è inaccettabile, questo è un segno di errori clamorosi di gestione dell'ordine pubblico C'è da dire che gli amministratori locali sono tutti qua in segno di disapprovazione, di una decisione della questura che va al di sopra delle loro possibilità evidentemente Non so se dipende dalla questura della prefettura Certo che l'ordine pubblico è stato gestito in un modo assolutamente assurdo Il sindaco e diversi assessori sono qui con noi, con gli amministratori Siamo persone normali, civili Certo, ma tanti cittadini che sono scesi in piazza a vedere cosa succedeva Tantissimi, di ogni età, perché ci sono dei diciotteni, dell'ultra sessantenne Che cosa sappiamo della manifestazione di Casa Paolo? Io non so niente in questo momento Stanno arrivando? Arrivano da dietro? Aspetta che proviamo Non sta succedendo niente, fermi Li faranno passare di là, li faranno deviare Fermi State fermi Voi dietro, fermi Due cordoni Due cordoni dicono Uno dietro, uno dietro con gli striscioni Ecco, con il microfono cerco di commentare quello che succede Questa manifestazione di Casa Paolo Pavia è iniziata con la scusa di una commemorazione di un fascista Il ragazzo di Pavia che è stato ucciso all'atere della guerra di liberazione E' una figura assolutamente non centrale, neanche controversa Un fascista che Casa Paolo coglie l'occasione di commemorare In realtà questa commemorazione prende tutti i toni di una sfilata neofascista E quindi in maniera spontanea Nonostante appunto questa manifestazione di Casa Pound fosse autorizzata dalla Questura L'Arci provinciale, l'Ampi provinciale, l'Ampi regionale sono intervenute Insieme ad alcune ampi locali di Pavia, di Stradella di cui faccio parte anch'io e alcune altre ampi Sono intervenute spontaneamente per creare questo presidio di protesta Rispetto al fatto che un'amministrazione di Casa Pound è una sfilata fascista Per la strada di Pavia è un primato, è qualcosa che non deve succedere Per questo motivo c'è un po' di tensione, seppur minima C'è un piccolo nucleo antisommossa della Polizia di Questura Che all'inizio di questo presidio ha anche mosso una piccola carica Nei confronti dei manifestanti Perché si voleva far passare il corteo proprio da Strada Nuova Dal centro di Pavia, un luogo molto simbolico per Pavia E questo non era accettato dai manifestanti Alla fine si sta trattando affinché questo corteo venga deviato nelle vie laterali E poi presso la sede di Casa Pound di Pavia Che è appunto in una vietta laterale qui del centro Per minimizzare l'aspetto simbolico che poi è il loro obiettivo Ma che è proprio quello che è importante, che non succeda Per la difesa dei nostri valori costituzionali E della nostra democrazia che nasce e si basa sull'antifascismo Mi spiace che la visione è quella che è Con questa telecamera si vede un po' meglio Ecco Delle lampi di Pavia Direte antifascisti Pavia E ci sono appunto, come dicevo, anche altre ampi che partecipano C'è questo piccolo nucleo di polizia di questura che è in attesa Credo che qualcuno abbia intravisto la testa del corteo di Casa Pound Perché partono dei cori Corri, tornate nelle fori Fascisti, tornate nelle fori Corri, tornate nelle fori Corri, fermi, fermi Corri tutti i formani Attenzione, siamo calmi La pioggia è inclemente per tutti, almeno per questa sera, in maniera democratica bagna tutti quelli che per un motivo o per l'altro sono in piazza o in strada per Pavia. La pioggia è inclemente per tutti. Poche persone, si parla di 30 manifestanti di Casa Pound che sono partiti dalla piazza del municipio o che sarebbero dovuti partire, a questo punto non si sa più, che sono un numero molto più piccolo rispetto alle persone che spontaneamente si sono radunate qui per protestare contro questa manifestazione pur autorizzata. Però sicuramente il fatto stesso che esista una manifestazione del genere e che si possa ancora parlare di neofascismo è veramente fastidioso e contrario ai principi di convivenza civile e di democrazia antifascista che ci devono rappresentare tutti. Ecco, quindi questo è scontato. Come dicevo, mantengono il presidio gli amministratori locali di Pavia, il sindaco e alcuni assessori a dimostrazione della loro contraddietà, della loro vicinanza alle posizioni di difesa della Costituzione, della nostra democrazia così come l'abbiamo conosciuta finora. E questo credo che sarà un po' la garanzia che non accadranno disordini particolari, anche se all'inizio, come dicevo, una piccola carica c'è stata, ma sarebbe davvero difficile immaginare che si possa muovere una carica di fatto contro gli amministratori locali della città di Pavia. Mi sembra davvero, come diceva prima un delegato della rete antifascista, mi sembra davvero qualcosa di troppo strano perché possa accadere sul serio. Comunque, non so se si riesce a vedere, qui siamo, per contestualizzare, qui siamo, là c'è il Ponte Vecchio, siamo all'inizio, all'imbocco di Strada Nuova e c'è un assemblamento di persone che sono quelle che ho citato finora qui e dietro queste persone ci sono delle camionette della Polizia di Stato che crediamo stiano scortando una parte del corteo. C'è Alessandro qui con me che sta fotografando l'evento. Ciao Alessandro. Ciao. Stai documentando i fatti? Sì, sì, no, no, ho ripreso la carica che hanno fatto la polizia. Ecco, ma spiegami un po' perché io non ero ancora arrivato con la carica, cosa è successo? È arrivato appena dopo? Niente, stavano cantando come stanno facendo adesso e hanno caricato, ci facevano andare indietro fino a che poi hanno caricato. Ma hanno picchiato delle persone? Hanno picchiato, sì, sì, hanno picchiato. Manganelli, sì, sì, certo, certo. Manganellate a strafottere proprio. Accidenti, questo non mi sembra... Ho appena finito di dire che mi sembrava surreale una cosa del genere, ma si è risolta in pochi secondi però perché non ci sono feriti, non c'è... Che sappia io no, non ci sono feriti, però insomma ci andavano giù pesante, non è stata solo una spinta. Sì, 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 sì. Prima hanno spinto e poi hanno iniziato a manganellare. Ho capito. Accidenti. Vabbè, adesso la situazione sembra molto più tranquilla, ma che notizia hai tu del corteo di Casa Pound? So che adesso ci hanno bloccati qua e probabilmente cambieranno il tragitto del corteo fascista. Non si sa ancora quale tragitto sia. L'ipotesi è che li facciano scendere da Via della Rocchetta, però alcuni l'hanno sventito perché Via della Rocchetta è un po' piccola. Fermi, compagni, fermi! Ho capito. Chi è questo ragazzo che usava il megafono prima della rete antifascista per via, ma chi è? E' Ala. E' Ala. Ala? Non lo conosco. Va bene. E niente, noi stiamo qui, approfittiamo di un po' di batteria per poter testimoniare in diretta questo evento un po' surreale, un po' strano direi per Pavia. Anche un po' come dire... Anche perché pare che del corteo fascista non ci sia nessuno di Pavia, quali più vicini se non da Boghera. Questo accade, devo dire, anche nelle incursioni che Casa Pound fa nelle città vicine, tra cui una pochi mesi fa a Stradella, in occasione dell'apertura di un centro di smistamento di migranti, e anche lì non c'erano strade linee. Casa Pound si sposta per far credere che sono più numerosi di quello che poi in realtà sono. Ma pare che sia un gruppo di 150 elementi. Questo corteo? Sì. Io ho sentito prima dire che erano 30, vabbè, sono qui le voci sì. 30 sono quelli che menano. Ah, 30 sono... Sì. Qui le voci sono un po' contrastanti. Però dici 30 sono quelli... 30 sono quelli che menano, 30 sono quelli identificati come violenti, a parte che secondo me sono violenti tutti. Sì, comunque violenti tutti sicuramente nelle idee, poi nei fatti bisogna vederlo. Infatti pare che siano una trentina di violenti che non si fanno scrupoli a menare. Ho capito. Accidenti. E niente, stiamo qui in attesa allora di vedere... Prima hanno preso la parola alcuni... Provo a togliere le cuffie. Eh? Ma poi che siccome c'è il 30... Aspetta, sentiamo. Una volta di portare avanti qualche ipotesi assurda di spostarsi, non voglio provare a desistere come abbiamo fatto prima, far vedere che siamo delle statue di pietra. Punto. Cioè, quindi è veramente importante che mostriamo che siamo ordinati e che non ci vogliamo muovere cascasse il mondo. Perché abbiamo già visto la terza o la quarta volta che poi desistono, perché ovviamente è un'ipotesi assurda. Se nessuno prende iniziativa è che si muova da qua. Ma se stiamo insieme portiamo a casa il risultato. Se non siamo insieme nascono dei problemi. Quindi, compagni, con calma noi teniamo la polizia. Viceversa, sempre per la trattativa, è importante che la polizia sappia chiaramente che nessuno di noi ha intenzione di fare nient'altro che stare qua. Se questi passano di là, li fischieremo, li insulteremo, faremo i nostri canti, ma non ci muoviamo di un passo. Nessuno avanzerà né in salita né in discesa né niente. Se stiamo fermi, esattamente immobili qua. Punto e basta. Facciamo il nome nostro. Nel frattempo... Abbiamo il nostro cordone. Se la polizia vuole metterci in mezzo, si mette in mezzo. Nel frattempo, poi, avremo tempo tutti domani a ringraziare il prefetto per questa cosa qua. Questo è il modo di gestire una piazza. Questo è proprio il modo di gestire. Sì, da domani questa cosa dobbiamo raccontarla, perché chi non è qua deve... Fate foto, raccontiamo questa faccenda in maniera che si sappia come è stata gestita questa cosa a Pavia e che l'anno prossimo non ci sia questa Manfrino un'altra volta, naturalmente. Come con l'altra manifestazione delle foibe che fanno ogni febbraio, da due anni, guarda caso, non la fanno più. Perché? Perché abbiamo deciso di dire basta. Basta febbraio e basta novembre. Se volete a ferragosto, provateci. L'hanno fatta a stradella a ferragosto. La stradella l'hanno fatta a ferragosto. E lì, purtroppo, non c'era nessuno a contestarla, perché erano tutti in ferie, quindi, insomma, ha fatto proprio un bel corteo grosso, quindi è stato un primato per stradella. Non è che noi qui siamo. No, no, si fa quello che si può. La tenuta di questa piazza non è scoltata per Pavia Non è scoltata per Pavia Sono anni che lavoriamo per arrivare a Pavia Con le braccia Questi stronzetti hanno fatto una marcia a me lo fa Perché nessuno vuole indagare Di andare veramente a indagare Ma nessuno, anche i giornalisti, nessuno vuole andare a indagare Quello che è successo E' come la storia di Ramella a Milano Questo fascista è caduto dal motorino negli anni 70, proprio il 5 novembre Questo Zilli Sì, sì, sì A questo punto, però, nessuno sa Addirittura c'è una sentenza Cioè, c'è tanto di... Sono stati usciti un paio del giornale nel 73 Che dicono che è caduto Questi dicono che è stato piccolo del compagno L'immaginario L'immaginario Va bene, insomma, questa è la causa scatenante Storica, diciamo, che dà un po' l'origine Ma a mio avviso il pretesto e la scusa alla manifestazione di Casa Pound Andare a sindacare È un po' quello che mi provo a dire Noi non vogliamo che la polizia carichi l'ANCE Non vogliamo che la polizia carichi l'ARCE Le associazioni I partiti I antifascisti I sinceri democratici Che non vogliono catacultarci nei tempi neri C'è un poliziotto che sta filmando manifestazione Credo con la volontà di schedare O di analizzare chi sono i presenti E poi trarne le dovute conclusioni Ma, come dire, legittime conclusioni Forse dovevano la Questura e la Prefettura Con molta umiltà, mi permetto di dire Le doveva trarre prima C'è da dire, per, diciamo, essere giusti nel giudizio Che molto probabilmente, ma questa è una mia interpretazione La Questura pensa che sia meno dannoso Meno pericoloso far fare queste manifestazioni a Casa Pound Che proibirle per evitare ritorsioni Quindi c'è da capire anche questo E c'è da capire anche, comunque, la necessità di mantenere un ordine pubblico Certo è, certo è che autorizzare un corteo Di fatto revisionista Perché va a, come dire, portare onore Anche in maniera molto folcloristica Con i saluti romani, eccetera Ad un personaggio negativo Della nostra storia, della nostra resistenza È qualcosa di inaccettabile E quindi era inevitabile Una reazione, peraltro una reazione Così pacifica E bella, e positiva, e moderata E, come dire, bipartisan E trasversale, ecco, volevo dire Larga di consenso È quanto mai la cosa migliore Che poteva succedere Ecco, al di là di questo episodio violento All'inizio, che però non ho visto E quindi non sono in grado di giudicare Ecco Paolo, Paolo, compriamo? Paolo, Paolo, compriamo la copia Paolo, perdiamo Non, non cerchiamo la pace Fermi, calmi, per un po' Fermi, calmi Fermi, calmi Non, non si guardano Non ci svolgerono Non ci svolgerono Non ci svolgeriamo Non, non ci svolgono Non ci svolgono Non ci svolgono Non mi svolgono È una granpa Non ci svolgono Il poliziotto che sta filmando molto accuratamente tutti i volti dei presenti, attività che sicuramente crea un po' di tensione, ma voglio dire legittima, esattamente come noi stiamo filmando loro. La differenza è che sono pubblici ufficiali in esercizio delle loro funzioni, quindi soggetti alla valutazione dei cittadini per quello che fanno, più che loro almeno in questa sede deputati a fare valutazioni di merito sull'opportunità dei cittadini di essere qui o no. Comunque, questo è. Con molta serenità io ritengo che la risposta più giusta, più interessante a cose di questo tipo sia quella di mettersi a cantare bella ciao e rimanere tranquilli. Chiamano qualcuno dell'Ampi, vediamoci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Proverò così, scherzando con questa opportunità di cronaca che Facebook ci offre, a spostarmi nelle retrovie dell'assembramento e vedere se sono ancora presenti gli amministratori locali, sì sono ancora presenti, sono ancora lì, anche loro ad aspettare e in fondo a metà di strada nuova ci sono alcune camionette, vediamo se si riescono a vedere da qua, alcune camionette della polizia e dei carabinieri che credo vogliano fermare un eventuale tentativo delle persone qui di avvicinarsi di là dove a questo punto credo passerà il corteo di Casa Paolo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Profittiamo di qualcuno dell'ampia di Stradella per parlare di questa cosa, ma tu sai qualcosa di questo Zilli, giusto per dare un cenno sul pretesto di questa manifestazione, su qual è la natura di questa cosa? Tu ne sei qualcosa? Una vecchia storia di un ragazzo morto, si sa per un incidente o per l'altro, che comunque di fatto era in viso all'estima sedista, ma una storia vecchia che era tanti anni fa. Io invece vorrei adesso, e approfittare per un'altra cosa, vorrei far riflettere i compagni del PD che sono anche qui presenti, c'è tanta gente che adesso ritiene che impegnarsi a difendere i valori della Costituzione nata dalla Resistenza sia una cosa anacronistica. Vorrei far riflettere loro sul fatto che se ancora adesso oggi in Europa ci sono muri che separano le nazioni, persone che inneggiano l'odio, posti come l'Ungheria o la Turchia dove di fatto succedono cose indescrivibili e qui in una città medaglia d'oro per l'esistenza, il fatto che ci si debba preoccupare che dei neofascisti vengano addirittura a toglierti l'agibilità e in questo nessuno le opponga. Tutto questo mi fa riflettere che forse oggi più che mai è necessario continuare a ribadire, difendere e rendere più attuali che mai i valori della nostra Costituzione nata dalla Resistenza. Poi il pretesto per cui questi hanno... Si, dice uno vale l'altro. Si, uno vale l'altro. E' stata una provocazione, andare a posare una corona di fiori, per carità avrebbero potuto farlo senza dover passare necessariamente per le vie del centro, quindi è solo un pretesto. Di fatto poi questa manifestazione ha acceso comunque legittimamente gli animi della città portando a quello che è, a tutti gli effetti, un blocco perché dalle 6 più o meno alle 7 di stasera tutte le vie del centro sono bloccate, il traffico veicolare è sospeso e è sabato sera Pavia, voglio dire, è una città molto vissuta la sera quindi sarà un problema, sarà una cosa di cui si parlerà anche dopo. Qualcuno dalla rete antifascista qui, non so se erano anche dei Lampi, comunque è stata criticata questa decisione del prefetto, io non conosco la natura però mi conforta sapere che qua ci sono gli amministratori locali di Pavia. Si, si, c'è stato anche il sindaco, ci sono consiglieri, quindi voglio dire va benissimo. Quindi, voglio dire, fanno capire che la volontà politica non c'era di fare questa manifestazione, evidentemente c'è stato un discorso più di ordine pubblico che di strategia politica. Vogliamo sperare, però non sappiamo. Io credo che ci sia un po' una distanza tra la figura del prefetto e i cittadini perché difficilmente riesci, anche quando è capitato con i migranti a Stradella, e sai che la prefettura si occupa solo lei di immigrare, difficilmente riesci ad avere informazioni sulla natura delle scelte, forse non è il titolo, la prefettura risponde al Ministero dell'Interno, quindi al Ministero e quindi al Parlamento, non ai cittadini locali direttamente, però questo sicuramente crea una distanza per certe decisioni che riguardano direttamente la vita dei cittadini e fai fatica a sapere perché arrivano, come arrivano, quindi questa è una cosa su cui dovremmo riflettere. Vabbè, comunque qui diciamo che la situazione è stabile. chi è che sta parlando? è importante stare qui, perché c'è una trattativa in alto, allora si vuole, si vuole, quando arriverà la proposta il silenzio verrà comunicata e poi decideremo decideremo nessuno decide non è che decide trovi a stare fermi stagni nessuno vada via e nessuno e nessuno e qui al treno? a me quando arriva la proposta la proposta viene portata all'assemblea e decidiamo che cosa fare non so se si è sentito faccio una sintesi con un linguaggio molto 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 nostalgico comunista ma in realtà corretto in questo caso si è detto che si sta come dicevo prima praticamente trattando rispetto al percorso o alla natura del corteo nel senso che potrebbe essere sospeso o comunque spostato e questa proposta sarà portata all'assemblea così non ho detto in realtà qui non c'è un'assemblea costituita c'è un assemblamento spontaneo di persone ma sicuramente con delle presentanti istituzionali o delle associazioni o del comune quindi saranno poi loro che discuteranno di questa eventuale proposta che però al momento non è arrivata quindi la situazione è di sostanziale stallo quasi quasi io sospenderei il video anche per preservare la batteria il megafono funziona il megafono funziona per poco si marco vuoi dire qualcosa vuoi dire qualcosa a facebook alla piazza hai smesso di parlare con facebook ma sai chi non è qui deve vedere con feo cosa è adesso no sto sto improvvisando e sto descrivendo la situazione per chi non c'è nella maniera più neutrale possibile per il modo che sia vista da più persone possibile perché comunque la cosa è molto anomala tutti tranquilli se sarà violenza non sarà mai stata colpa nostra no ma noi non l'auspichiamo eh ma non ho capito niente sai che ci cari i rappresentanti di non andare là i rappresentanti di tutte le istituzioni della regione e va bene il sindaco era là ma delle varie delle lampi non li vedi la lampi la claudio dell'arci c'è la claudio dell'ampi non si deve niente c'è troppo buio come così quello è sempre in realtà non è vero non è vero alla progetta tu le montagne quello se non sbaglio come? sempre regionale delle lampi so chi è tu le montagne è lui no? ma non lo vedo dove? non è questo è lui sembra lui è più provinciale è regionale mi sa adesso prima l'hanno nominato così però non so non sono sicuro non so sono fatto arrivare i calambi hanno fatto arrivare gli altri non hanno fatto arrivare i poli è aumentato il numero dei poliziotti non me ne ero accorto se ne sono circa il doppio rispetto a quelli che c'erano da prima sono arrivate altre tre camionette orca non me ne ero accorto questo non è un buon segno diciamo non mi ero accorto di questa cosa più che raddoppiato direi la proposta che ha fatto il contatto è un ordine questa ci mettiamo fuori noi davanti ci mettiamo una distanza se vogliono caricare eccoci voi state lì e sentiamo se poi vogliono caricare pure qua dietro o la cosa cosa vuol dire allora andiamo lì voglio caricare chi questa è la proposta faccio fatica a capire allora il responsabile del servizio d'ordine che credo che credo sia un viceprefetto che sì un vicequestore chiedo scusa comunque è un agente di polizia di stato perché ha il distintivo anche se è in borghese avrebbe detto avrebbe proposto ai diciamo referenti della manifestazione di convincere i manifestanti a rimanere fermi in attesa del passaggio del corteo e di non ovviamente fare azioni provocatorie nella speranza che non le facciano neanche loro mi sembra un po' strano come proposta però questo è andiamo di là che magari riusciamo a sentire in meno scusate ragazzi tranquilli in ordine tranquilli e in ordine fermi fermi sono presentati loro che in realtà dov'essi mettere presidente regionale questo è un fronte unitario ci sono c'è l'am c'è l'art ci sono le organizzioni politiche che rappresentano gli antifascisti voi la vostra responsabilità di fronte a questa città intanto ci saranno filmati perché questa è la modernità stanno filmando anche loro tutti stanno filmando sempre filmati non è un problema no no grazie faccio un formone bravo 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 cordone dietro fermi bene qua fermi bene qua fermi 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 si sono avvicinati degli agenti di polizia di stato in tenuto antissommossa alla parte dietro dell'assembramento ma non con intenzione di carica si sono semplicemente avvicinati ma questo ha creato un po' di agitazione che si sta placando in questo momento credo si siano avvicinati proprio per contribuire a contenere le persone qui e quindi a fare in modo che quello che è stato proposto cioè la stasi fisica venga rispettato perché evidentemente il corteo sta per passare quindi polizia davanti polizia dietro le istituzioni i lampi e un senatore mi dicono ma non l'ho riconosciuto non so chi sia sono qui fermi bloccati mentre i fascisti in qualche modo sfilano per Pavia insomma questo non è è un po' quello che credo stia accadendo bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di morire se io muoio da partigiano un'idea di seppellire seppellire su montagna metà della polizia si è messa di fianco all'assemblamento metà è rimasta qui non ho ben capito passereanno bella ciao bella ciao bella ciao 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 e dei denti e passereanno vivi l'anno che perdio questo è il fiore del partigiano bella ciao bella ciao bella ciao 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà via 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 i fascisti in la famiglia che bene si è avvicinata cioncio filma non capisco perché la polizia si avvicina così tanto creando un po' di tensione ma perché si avvicinano così si agitano di più ma scusa ma non c'è bisogno ma no dai non ho capito cosa vogliono fare li vogliono spostare si devono scendere di qua ah no è no ok pare che eh no ma scusami si hanno messo il blocco dietro no non passano di qua ok si stanno picchiando si stanno picchiando ok si stanno picchiando vedo i manganelli alzati ok non è non è questo accordo evidentemente non c'è stato la polizia sta cercando di spostare si sono messi di lato per questo stanno cercando di spostare l'assembramento evidentemente per far passare il corteo si sentono dei colpi è caduto uno scudo probabilmente c'è un po' di tensione e anche un po' di retorica se posso permettermi perché c'è da stare calmi e non fare la figura dei violenti che fanno loro la polizia sta spostando attenzione la polizia carica la polizia carica sta spostando l'assembramento l'operazione è violenta è inevitabilmente violenta è violenta ragazzi è incredibile la pavia è una roba è una situazione incredibile è una situazione incredibile è una situazione incredibile La polizia ha caricato in maniera anche violenta, ha cercato di spostare le persone, siamo a metà della piazza, a metà della strada nuova, la gente di qui è compatta, la polizia vuole rimuovere le persone per far passare il corteo evidentemente. Gli animi si stanno calmando perché ci sono delle istituzioni che, tra cui, ah questo forse è un ex senatore, forse. Accidenti ragazzi, non è una cosa che si vede tutti i giorni a Pavia e comunque per questi motivi. Dimissioni, 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 dimissioni! Adesso è questo punto, avete fatto un'opinione, vogliamo vedere cosa volete fare. Non facciamo rivalità con la polizia, cerchiamo di farli ragionare. Fino a prova contraria non sono la polizia i fascisti, quindi cerchiamo di ragionare. Abbiamo solo chiesto di farli deviare, ma per motivi di ordine pubblico non vedete che persone siamo? Ma vogliono farli passare di qua? Vogliono farli passare di qua, quindi? Sì, vogliono farli passare di qui, capito? Perché... Adesso un po' via! Non hanno, non hanno, i poliziotti non hanno i numeri di identificazione che di solito si vedono sullo scudo. No, no, in Italia no. Alcuni, alcuni sì eh, alcune squadre ti sono mostro. Attenzione, là stanno manganellando, ai 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 ai, colpi di manganello. Eh, un attimo, che la tensione si alza. Dammi i numeri di identificazione, non so se sono obbligatori o no, mi sembrava di averli visti su alcuni corpi di polizia, però in questo caso no. La gente è sconvolta, non si aspetta un comportamento del genere dalla polizia. E cerca di parlare, chiamano il sindaco, chiamano il sindaco, vediamo cosa succede. Il senso Regalazzo sta chiamando il sindaco. Il sindaco è preteso. Il sindaco ha detto di aver fatto il possibile, ma non abbiamo dubbi, ma anche prima, di cercare di evitare questa cosa, lo scontro, ma evidentemente il questore non ha ritenuto, perché ha dato incarico alle agenti della squadra mobile di tentare di rimuovere le persone. E li hanno spostati da metà della piazza, surreale. Surreale. Guarda, vedi, stanno spingendo, vogliono arginare le persone di lato, si sono messi a cordone per arginare ai lati della strada, per liberarla praticamente. Ma questo accenderà solo di più gli animi e quando arriverà il quartiere di Casa Pound sarà molto peggio. Vergogna, 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 vergogna. Il sindaco ha detto dei disordini e del cazzo. Vergogna, 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 vergogna. Eh, non del cazzo, sei tu che li stai creando, mi verrebbe da rispondere a questa gente qui davanti che sta parlando a questo cittadino che le mette la mano sulla spalla. Ah, 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 qui, ricaricano ancora. Eh no, vogliono proprio, le tecniche standard, cercano proprio di, attenzione qua c'è, ah, 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 attenzione. Ciao, ciao! BASTA! 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 Oh Dio! Mettetemi! BASTA! C'è una scelta! C'è una scelta! Bravi! 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 C'era un gradino! C'è una situazione in tensione stupida dove proprio sembra una rissa è una cosa ridicola che si riesca a arrivare a questo punto e dovevano spiegare e trattare su questa cosa BASTA! BASTA! In prima fila c'è una scelta! BASTA! A poter filmare in modo per non mettere il filmare Non riusciti ad arginare le persone a liberare un sacco di spazio nella piazza Allora, io chiedo di presentarsi il sindaco venga qua a prenderà un sacco di lui venga, venga, venga perché questi non hanno l'ora non si fermano ma è pazzesco non è possibile esistere una piazza così nessuno vuole insegnare agli altri ma questa è follia, è estrema follia noi da qua non ci muoveremo non è l'altro sentanto non siamo venuti per questi scolini andiamo in mezzo a fare un scolini basta! andate a chiesa! BASTA! 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 dovete fermare istantaneamente questa situazione perché non è possibile c'è sempre che si è fatta male una ragazza ferita cioè domani finisce un casino cercano di coinvolgere il sindaco ma hanno capito che cosa possa fare il sindaco anche al di là delle sue autorità il perfetto e il portore sono più in alto del sindaco quindi a tutta la buona volontà non so cosa possa fare però sicuramente ce l'ha messa BASTA! 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 Allora mi viene comunicato che probabilmente c'è una mezza trattativa diciamo che c'è stata con il gruppo di Casa Pound come se fossimo a metà strada e praticamente loro non passano di qui se in cambio l'assembramento si sposta da qui ma siamo al limite del ridicolo, pensano davvero, eh cosa dicono i vigili? i vigili, allora ci sono notizie contrastanti, è chiaro che liberare la strada sembra per farli passare però non è chiaro qual è il motivo, adesso il signore qua diceva e no ma appunto dico bene ma se prima hanno detto che stavano trattando di non farli passare i vigili diciamo che passano di qua, eh ma non ho detto che i vigili siano informati com'è la costura perché sono due, beh comunque vediamo però nel frattempo loro pian piano pian piano stanno ascoltando la gente, questo vogliono fare la gente perché non si sposta? cosa ragazzi ma invece di fare muro ci spostiamo di qua, andiamo dietro no? invece di fare muro andiamo dietro scusate e torniamo di qua e riempiamo la piazza, ok? andiamo di qua in maniera molto tranquilla, non c'è da fare muro da darsi le botte ci hanno ammazzato di botte, ci hanno ammazzato e noi ci spostiamo non usiamo queste parole dai, stiamo più in alto, stiamo più in alto non facciamo la lotta a con la polizia, si chiede di ragionare e dire che non serve a niente non sono loro i fascisti fino a prova contraria ci sono delle donne ferite, ci sono degli anziani feriti, ci sono dei compagni feriti perché? non si capisce, eravamo qua tranquilli, nessuno di noi è attaccato neanche attaccati ci siamo difesi sostanzialmente qual è l'ecenso di questa mossa? tra l'altro ci avete spostato di là, se io voglio vengo di qua anzi veniamo di qua, veniamo di qua, dai avevamo una trattativa in corso esatto, esatto esatto, cos'è questa trattativa che poi è tutto questo perché ci devono essere dieci nazisti che devono trattare la città, perché? esatto ospedesino esatto, esatto cした mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao Mi sono svegliato e ho provato, rimasto Partigiano, portami via Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao Partigiano, portami via E mi sento di morire E se io muoio, partigiano Bella ciao, bella ciao, bella ciao E se io muoio, partigiano Mi sono un po' passata prima Che mi sembra un po' una cosa Se lo cuci ancora di me Non fare questo Non stare tu Non stare tu E se io muoio, partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao E se io muoio, partigiano Morto per la libertà L'interattiva è a cazzo Nel senso che si stondano poi in metà E poi c'è Ma io vorrei dire adesso Perchè non voglio cazzare chi non sta facendo Stai caricando il Totti E cioncio Alessandro, attenzione Attenzione No, 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 no Attenzione Ma fermi Dai che c'è una ragazza C'è la Federica Che roba riduta No, dai, dai Ma come siete i coppi E' arrivata l'ambulanza Nel dubbio Nella speranza che non serva E' arrivata l'ambulanza Non ci dice un ferito Non so, comunque è arrivata l'ambulanza Marcello Ben lavoro Continuano spingere Per l'espressione delle azioni Al lato della strada Per motivazioni non chiare Ignorando quella che è stata annunciata Come una trattativa Per evitare che il corteo passasse di qui Il pensiero va a tutti i soldi Che stiamo spendendo Soldi pubblici per pagare I straordinari Alle agenti di polizia Per fare un disservizio Alla collettività Ai cittadini La mia tutta Con la loro convenzione Di starla servendo La pubblica utilità E questa è una contraddizione Molto forte Che purtroppo vediamo In alcuni casi Rari Per cui non è la regola È fortuna Però Questa sera è così Voi siete figli del popolo Cavolo Siete figli del popolo Anzi voi Vi ritengo Vi ritengo La loro Invece voi Fate una cosa diversa Fate una cosa diversa E non va bene Non va bene Noi siamo Piedi E nei poveri studenti Vergogna E nei poveri studenti Vergogna Poi Poi I Noi siamo Poi Questa fuori La roba di barberi Con la scusa che stanno bloccando la strada, è incredibile, incredibile, un agente ha detto state bloccando la strada, ma se tutta la pavia è bloccata con posti di blocco ovunque, il traffico veicolare è sospeso da ore e un poliziotto dice state bloccando la strada, ai manifestanti che sono qui proprio per questo, è surreale, è surreale. Trattativa, dice un agente della polizia di Stato, non si capisce trattativa per cosa? Cioè tenere quella posizione non ha senso, spostiamoci un attimo perché qua ci hanno chiuso. Spostiamoci di qua, spostiamoci di qua. Vai. Geniale operazione della polizia che ha fatto... Non dirglielo però. Non dirle, non dirle, non dirle, non dirle, non dirle, non aiutarlo, sennò che stiamo... Surreale, surreale. Capisco perché questo poliziotto continua a filmare me, ciao. E glielo mando il video. Andare la gente all'ospedale... No, avevo bisogno di un paio di manganelli, non due manganelli. No, ha detto dammi due manganelli. No, così almeno siamo all'affare, siamo i nerdi, siamo all'affare. Eh, almeno due manganelli, io, manganelli voi, non ci vediamo la fine. Per favore di che roba, per favore di che roba, non passano neanche di qua, ci prendete... Ma magari all'interno... Eh, di che cosa? Le fatte passare di là, le fatte di di là, siamo a posto. No? Sotto il problema. Non ho capito, passano di qua. Sotto il problema. No, non ho capito. No, non ho capito. Ma il futuro, perché scossa le cose? Hai visto qualche cosa... No, d'accordo, ma... Prima qualcuno ha detto che stavano trattando allora perché adesso scadano? No, ma secondo te ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Eh, ma di cosa stiamo parlando? Sì Angela, l'avamo se... Ma di cosa stiamo parlando? Ci hai visto? Ci hai visto? ma no, non voglio spingere non litighiamo con la polizia per favore Totti ma tu ci hai visto siamo 200 poveri cristi qua a difendere un diritto e dobbiamo prendere anche i manganelli almeno presto o meno fai almeno presto o meno fai non fare il faccino rosso non fare il faccino rosso che è un attimo il montaggio pubblico ufficiale stai attento non li ho neanche chiamati Playmobil non devi infatti devi stare tranquillo stare qui o stare lì è lo stesso ormai dove cazzo andiamo? e noi che cazzo stiamo a me è una metà di rispetto mi faccio non faccio piaccio non faccio a me c'è la mia faccia ormai c'è quelli che filmano è su facebook ma è pubblico e poi se lo può vedere ma non c'è la litigata la polizia è qua ma visto che un po' mi sta affrontando facciamo siamo i target preferiti della polizia siamo i target preferiti della polizia siamo i target preferiti della polizia che sta filmando noi perché stiamo filmando lì ma non c'è il punto è tutto pubblico postare questo su Facebook? questo è streaming live in questo momento e poi ci sarà postato è tutto pubblico è tutto pubblico è un po' per fare cosa non si per fare They sono un po' E' un'altra cosa che noi non siamo amati, non c'erano una polizia, che se dovevano gestire violenti veri, che prendevate, ha di colomba, ma allora gli conviene, pensano questi qua i suoi no, quando gli servono li usano, quell'altro, compagni, 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 compagni! e si dice che erano veneno az altre famiglie... Non, non, da dove sono veneno? Si, da quella forma, da quella forma No, da quella forma... Quindi si ho un'altra forma di trame, anche i tamburi, sono veneno da quella forma Non è straordinario che gli sviluppi sono così violenti qui ma ora tutti si potrebbe continuare se volvelo Si, si, è straordinario, assolutamente ma si potrebbe continuare No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no due o tre giorni. L'ex questore di Pavia ha questa concezione dell'ordine pubblico, per cui bisogna caricare anziani, donne, due compagni, ricordiamolo, domani dovremo parlarne e speriamo che stiano bene, uno con un braccio rotto, uno con la testa rotta, portati via dall'ambulanza, mi dicono. Questa è stata la grande operazione di polizia fatta oggi a difesa dei fascisti. Ai fascisti non hanno avuto neanche il coraggio di chiedervi per il favore di togliere le fiascole e dicono che agiscono per difendere la sicurezza della città. Fascisti, parogne, tornate nelle mogne! 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 Una marcia militare con il tamburo e le diaccole fatte da dei miei logisti. Cosa c'è di strano? È logico che sia di casa dalla polizia. Tutta la città è mobilitata per questo. Questa è una mastina. Mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella sottrina. Mi sono svegliato e ho trovato il mio asso. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, partigiano, portami via. che mi sento di morire, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire da sui montagna, che mi sento di morire, se io muoio da partigiano, tu mi sento di morire, se io muoio da partigiano, se io muoio da partigiano, tu mi sento di morire, se io muoio da partigiano, tu mi sento di morire, se io muoio da partigiano, ora è sempre resistenza! Ora è sempre resistenza! Ora è sempre resistenza! Ora è sempre resistenza! Le fiaccole sembrano finissime, se io mi attratto! La mia presenza è resistenza! Fascista, attento, ancora fischia il vento! Fascista, attento, ancora fischia il vento! Ops, non riescono a far passare lo striscione, che peccato! Guardate cinque camionette ad aiutarli! Stavate la polizia! Hanno un enorme striscione con Mussolini, quello si può fare a Pavia! Signori, questa è l'apologia! Dovete guardare di là però, di là, non di qua! Non c'è! C'è l'apologia! C'è l'ap suckserente! No c'è l'apisation di riempio marron, L'apassi che non si sono ravi, non'è ancora un contrasellino, un'argo, non si sono un candidato! E quindi, non si è così! Le torce non si vedono più, sembra che siano passati, hanno passato lo striscione? Vabbè, lo chiuderanno. Bruciatelo! Perde! Con le torce che hanno già lì, ci sono facilitati. È passato, è passato lo striscione, è andato, è andato. È passato lo striscione. Trettino, vero? Verde! Scusate, almeno quelli che c'erano, eh. Tutti i capi della polizia, sicuramente, in alto di noi. Lo ce l'ho andato. La gente non diminuisce di numero, anzi, credo che stia aumentando. La parte almeno iniziale del corteo sembra essere passata, perché non si vedono più le fiaccole. C'è ancora gente, però, che cammina ai lati di cordoni della polizia predisposta in metà strada nuova e non arrivano fino al ponte coperto, ma girano, appunto, in via della Rocchetta, verso, credo, la sede di Casa Pound. Nel frattempo, nonostante la carica e delle azioni violente, del tutto inutili, cioè, guardate la sorietà di questa situazione, cioè, le persone erano qui in piazza, non sono state rimosse, sono state spostate di metà piazza, come a, come dire, a provarci, ma a me sembra un atteggiamento un po' strano. O si rimuovono o non si rimuovono, ovviamente non andavano rimosse. Comunque sia, per fortuna si sono fermati e si sono fermati anche gli atti violenti e quindi le persone sono rimaste qui e, anzi, come stiamo vedendo, non sono per niente poche. Sono anche aumentate di numero, nel frattempo altre persone sono arrivate dal lungo Ticino. Il corte è finito e penso che quello che doveva succedere sia successo. Sono passati, sono passati, è finito, dai. Operazione inutile, è un po' strana, comunque, vabbè, dai. Sì, cioè, non si capisce, prima ti dà il comunicato e dici alla gente che stai trattando e poi li sposti a metà per cosa, non capisci, eh, cosa devo dire? Non proprio non capisco il senso, ma comunque, vabbè. Sì, ma loro vogliono andare. No, no. O è andato anche lui a fare una parte rossa. È dura a te, gara. Oddio, lo dicevo, dammelo anche a me un canale. Ma lo devi dire, un prestito. Non devi, non devi... Poi questi qua non sono neanche i delegati, non è gente con cui si può parlare. Ma bisogna litigarci e basta. Ma va, ma poi... Ma il massimo litigare. No, no. No, no. No, no. Ti ricordi l'altra volta che... Vabbè, insomma, ritengo che quello che deve succedere sia accaduto. Un rapidissimo riassunto è una quantità importante, direi... Vabbè, non faccio stime, ma insomma, sicuramente più di cento persone sono radunate spontaneamente per protestare contro un corteo di Casa Pound che avrebbe dovuto passare per Strada Nuova e andare in Borgo Ticino passando sul Ponte Coperto. Questa cosa non è avvenuta perché il corteo è stato fatto deviare, come appunto i manifestanti chiedevano in via della Rocchetta. Peccato che prima che questo accadesse la polizia ha usato in due occasioni, una all'inizio e poi ripetuta circa mezz'ora fa, ha utilizzato metodi violenti per spostare di pochi metri le persone in Strada Nuova senza nessun apparente risultato rispetto alla logistica della manifestazione di Casa Pound, quindi non si capisce bene perché. Comunque qualcuno è finito in ospedale, sapremo nei prossimi giorni in che condizioni, di che crevità sono le lesioni di quelli che sono stati portati via con l'ambulanza. La situazione adesso sembra stabile, la polizia rimane a presidio di tutta l'area, un dispiegamento piuttosto grande, le camionette sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo quelle che posso vedere io da qui e una ventina di poliziotti in assetto antisommossa rimangono a mantenere una specie di cordone inesistente, lo vedete, a metà della via, cioè c'è gente dietro di loro, c'è gente davanti a loro e loro in mezzo, non si capisce bene a che pro. Comunque, vabbè, insomma, diciamo che la situazione al momento sembra abbastanza tranquilla e direi che possiamo chiudere qui questo video e se c'è qualcosa ne faremo un altro. Speriamo di non doverla ripetere un'esperienza del genere. Ciao a tutti.